Eccoci qua dopo gli auguri di buona Pasqua, ovviamente doverosi a tutti quelli che sono i nostri follower, in primis tutti quelli che sono con noi oggi, che sono con noi, che ascoltano questa nostra live, questa non stop di musica con Antonio Pasquale, diciamo per vivere insieme ancora qualche momento di festa prima del pranzo pasquale ovviamente, che vivremo un po' tutti con i nostri amici, conoscenti e tutti quelli che ruotano nelle nostre cerchie affettive. Una segnalazione vogliamo farla per quanto riguarda anche uno dei nostri follower che è con noi, ci segue assiduamente, noi seguiamo assiduamente e di conseguenza anche lui, per quanto riguarda informazione, un collega, una radio che trasmette come noi dal portale di Spreaker, Radio No Frontiere, una radio che si trova sul territorio campano, che trasmette anche qui tante novità, aggiornamenti, notizie, curiosità dal mondo radiofonico. Radio No Frontiere la potete trovare anche su Youtube e su Facebook, ricordate Radio No Frontiere è un'altra radio che come noi cerca di tenermi informati sul mondo informativo, in questo caso parliamo di calcio perché trasmette l'informazione sul calcio, novità, aggiornamenti, tante sono le cose che potete trovare su Radio No Frontiere, che è con noi anche oggi, buona Pasqua anche a voi e buon lavoro.